Una vita postuma e il mio aspetto lo denuncia. Muoio al dettaglio e le mie condizioni sono molto... degradano ogni giorno e ho anche fatto degli epitaffi. Qui già c'è Roberto Gervaso che ancora stenta a crederci. E vivo una vita molto regolata. L'altro giorno sono andato in via dei serpenti. Una vecchia merciaia mi ha chiesto signor Gervaso quanti anni ha? Io o in uno stato confusionale o per ironia le ho detto 123. Mi ha risposto come riporta bene. Come riporta bene, ma in effetti...